Amici del web, buonasera a tutti, bentornati. Allora, vi ricordo, domenica 13 di novembre, alle ore 10 fino alle ore 12, dal Gran Caffè del Sud di Noale, avremo la prima puntata caldissima con Amami Amami. Qui abbiamo un ospite che si sta documentando su cosa dovrà dire, sì, l'abbiamo vista, stiamo scorgendoti, è il nostro ospite di punta che parlerà di gossip e quindi sta giustamente documentando ed è, mistero, mistero. Ciao a tutti, stavo volando le tette di Belen, che è proprio autostima a zero. Comunque, niente, vi aspetto domenica con il mio amico Nicola. Con Nicola Bugiolo, con altri ospiti, ci sarà anche la signora Gina, la signora Gina che ti dirà per te votare sì o no a referendum costituzionale, se ti interessa. E' una cosa che interessa a tutti. Ma poi, dopo di gossip, di cosa parliamo, Cristina, anche? Di cosa parliamo? Ecco, grazie. Di un po' di tutto, di gossip, di cose differenze, di... Ma io voglio sapere, sono curioso perché sono curioso di due cose. Farai il tuo ultimo top singolo... La tua nuovissima canzone, Clinton, guarda che si chiama. Green Tone! Ah, Green Tone. È Green Tone. Anche se non sarebbe l'ultima, l'ultima. Quale sarebbe l'ultima? L'ultima è la stag andiamo nel testone. Sì, quella è censurabile. È censurabile. È censurabile. Dai, allora facciamo il Green Tone. Facciamo il Green Tone? Facciamo Adele? No, Adele, no. No, Adele, no. Non so stare, non so stare. Ricordi, non so stare. Faccio il Green Tone, dai. Così, domenica mattina, se proviamo un sprisci in compagnia. E tante cose ad Amami, Amami. Vi aspettiamo. Ciao. Ciao. Ciao, ragazzi. Radio, Mario, tutto il primo, frequenza M1017. Piccolo. Non ho letto! Ho letto cosa che mi sono ricordata. Ho letto cosa che mi sono ricordata. Ho letto cosa che mi sono ricordata. Ho letto cosa che mi sono ricordata.